Buongiorno a tutti, rieccoci ad ADR21 da Claudio Sottili. Elisa Ghirinchelli, scusate ero già assorta nella lettura della tua sentenza, di cosa ci parli oggi? Oggi parliamo intanto Corte di Cassazione perché laddove è possibile a me piace più discutere di sentenze di Cassazione che hanno, sappiamo, un valore più pregnante. Seconda sezione civile del 7 dicembre del 22, quindi molto recente. La numero 35 971, ripeto, Cassazione, 7 dicembre 2022. Qual è il tema? Il tema è l'annullamento del contratto del professionista del legale per mancata informativa al cliente della possibilità di esperire il procedimento di mediazione. Questo riguarda i tuoi colleghi? Questo riguarda i miei colleghi. Però ci sono degli spunti interessanti. Allora, il caso trae origine intanto da un accertamento tecnico preventivo che vede il condominio che contesta i vizi dell'immobile. Quindi, chiaramente, in realtà veniva proposto da un avvocato contro il condominio, il giudizio. Arriviamo, tra l'altro, questa Corte di Cassazione arriva a una Corte d'Appello di Milano, quindi comunque anche per noi è importante. La Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto all'avvocato un indennizzo di importo ridotto in considerazione dell'anticipo già percepito a titolo di compensi per aver difeso il condominio in un procedimento per accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto vizi costruttivi. Quindi, la causa origina da un accertamento tecnico, ma la Corte di Cassazione si pronuncia su una causa che ha avuto ad oggetto la richiesta di pagamento e di liquidazione dei compensi dell'avvocato che ha assistito quel condominio in quella causa. Il giudice, la Corte d'Appello, aveva stabilito che la mancata allegazione all'atto introduttivo del giudizio dell'informativa in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile, obbligo previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 28, fosse causa di annullamento del contratto d'opera professionale, anche perché lo dice proprio la norma, richiamata peraltro nel Codice Deontologico degli Avvocati, anche se detto adempimento non aveva avuto conseguenze sul piano processuale. Il primo dato interessante è che ha influenza sul contratto con l'avvocato e quindi sul suo compenso fondamentalmente, anche se non ha prodotto un danno. Quindi è una sorta di responsabilità oggettiva, quindi non c'è bisogno di provare di aver subito un danno per la mancata informativa, basta che tu non me l'hai data. Ma soprattutto perché l'accertamento tecnico preventivo non è materia obbligatoria, quindi anche qua... Questo infatti è il passaggio successivo che fa la Cassazione però. In buona sostanza la Corte d'Appello liquida solo all'avvocato un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, ovvio che comunque la prestazione, a prescindere dal contratto, c'è stata e quindi merita un indennizzo, ma non a titolo di compenso. Che di solito è il 50% mi sembra di... Che il giudice chiaramente ha liquidato in base all'attività effettivamente svolta applicando il tariffario forense. Quindi laddove il contratto avesse previsto un compenso molto più alto, la Corte ha detto non ne hai diritto, ti liquido in base a quello che hai fatto e in base al decreto ministeriale sui compensi dei legali. Questo mio collega fa ricorso in Cassazione. La Cassazione conferma l'orientamento della Corte d'Appello andando ad aggiungere questo tassello che appunto non solo non rileva ai fini della processuale il fatto che non sia stata data l'informativa, ma addirittura non rileva neppure che non sia stata data su una procedura avente ad oggetto una materia non obbligatoria come l'accertamento tecnico preventivo. Questo comporta di fatto per cercare di riassumere da un punto di vista pratico che la mancata allegazione dell'informativa da parte dell'avvocato al suo cliente anche nelle materie non obbligatorie comporta la nullità del contratto di conferimento dell'incarico. E anche in procedure non obbligatorie. Anche in procedure non obbligatorie. Quindi il fatto che si scelga, mi viene in mente appunto i vizi degli immobili o le responsabilità mediche, una procedura di ATP in luogo della mediazione ma senza averla prospettata al cliente è motivo di annullamento del contratto. Ma questa sentenza fa un ulteriore passo in più, quella della Cassazione. Oltre a dire tutto questo di cui abbiamo parlato finora, arriva a dire che il documento contenente l'informativa non può identificarsi con la procura ad litem dalla quale si distingue per oggetto e funzione. Quindi non solo, e questa ripetiamo è di dicembre del 2022, che richiama una Cassazione del 2016, la numero 13886. Quindi non è la prima volta che... Infatti ricordo che all'introduzione del decreto legislativo del 28 all'articolo 4 si era posto il problema e originariamente tutti gli avvocati diligentemente predisponevano un'informativa separata rispetto al conferimento dell'incarico. oggi si è ritornati, almeno per quello che riesco a vedere io, per quello che mi capita di vedere, ad inglobare tutto in un unico documento, in un unico contesto. E la Cassazione sembrerebbe invece richiamare all'ordine i professionisti, dicendo guardate che l'informativa... Quindi per quanto mi riguarda, da domani è informativa di nuovo separata. Informativa separata e magari più dettagliata. Esatto. Pensate che questo è un condominio. A mio avviso si potrebbe fare delle considerazioni in merito a quello che è il ruolo dell'avvocato all'interno delle assemblee condominali, quando viene conferito l'incarico per seguire e difendere il condominio. La responsabilità dell'avvocato che deve palesare, manifestare all'assemblea condominiale quali sono gli strumenti alternativi al giudizio, quindi tutti gli strumenti ADR e in particolar modo la mediazione per quanto ci riguarda, perché io credo personalmente nella procedura di mediazione, forse dovrebbe essere riconsiderato. Nell'informativa a un'assemblea condominiale non basta far firmare all'amministratore il fogliettino. Forse occorre che l'amministratore o il legale si prodighi in un'assemblea per comunicare e trasmettere all'assemblea quali sono veramente le possibilità intrinseche della procedura di mediazione. Sì, che tra l'altro secondo me l'informativa andrebbe a questo punto diversificata di volta in volta, ossia fatto lo scheletro di ti sto informando della possibilità della mediazione, ma scrivere e rappresentare le varie strade. Possiamo fare un ATP vero a questo costo, questi rischi, questi benefici. Possiamo fare una mediazione con accertamento tecnico in sede di mediazione. Certo, con una CDM. Anche perché c'è quel tema. Direi che anche oggi, come al solito, abbiamo svorato. Grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie a tutti per averci seguito.